Chiuso il reparto di terapia intensiva covid di Caltanissetta dopo la terza ondata e non è stato più riaperto per mancanza di personale. L'ASP è sotto organico di circa 80 unità infermieristiche. Posti letto disponibili al reparto di terapia intensiva covid dovrebbero essere 28. Secondo il piano dei fabbisogni, già troppo pochi se ci fossero. Invece sono soltanto 8 e a Gela, che dovrebbe servire tutti i paesi della provincia. A Caltanissetta resta aperto il reparto di terapia intensiva tradizionale, quindi non covid. Dopo il flop del click day di qualche giorno addietro per l'assunzione del personale infermieristico, il sistema si è bloccato con un nulla di fatto. Oggi dovrebbero arrivare i nuovi sei biologi assunti per il comparto tamponico, così da circolare regionale.